Sì, sono Farlo10 e oggi vi farò vedere come si recluta Njord's Njord, l'attaccante dell'Alpine. Ecco l'AmicoGuard. Allora, il primo oggetto è Neve Sconosciuta. Si deve andare alla Repubblica di Tonga, nel campo. Qui sotto al campo ci sarà una tongana che vi parlerà di non aver mai visto la neve. Il secondo oggetto è Cervo in Legno. Si troverà nell'epoca di Reastu, alla Grotta della Tristezza. Si dovrà abbattere questa squadra, finché non vi dropperà il Cervo di Legno. E poi dovremmo trovare il tema Taglialegna. Kit da Taglialegna. E si troverà un signore qui che vi parlerà di come tagliare la legna. E alla fine vi darà il tema. Poi dovete incontrare il Njord a Inazuma City, cioè nel presente. Si troverà alla stazione dei Treni. E vi dirà che all'Alpine non c'è nessun treno. E alla fine potrete reclutarlo dal menu AmicoGuard. Ragazzi spero che il video vi sia piaciuto. Mettete mi piace, commentate e iscrivetevi. Al prossimo video.